Cari telespettatrici, cari telespettatori di Rossini TV, bentornati al nostro appuntamento del lunedì dal salotto di Fisionadi Medical Center, check-up Obiettiva Salute, terza stagione e primo appuntamento col dottor Gino Duronio. Buonasera dottore. Buonasera. Il dottor Gino Duronio è cardiologo e si occupa quindi della parte, lo diciamo tutte le volte, ogni volta lo diciamo, però effettivamente il cuore è l'organo più importante del nostro organismo, dottore. Assolutamente. Diciamo che l'organo a cui riponiamo i maggiori valori sentimentali, oltre che da un punto di vista funzionale, diciamo, senza cuore, purtroppo non esiste la vita, quindi per un cardiologo il cuore è l'organo più importante, sicuramente. Ma lo è in effetti per tutti. Dottore, secondo lei, perché il cuore viene così associato anche al concetto di amore e non altri organi del cuore? Perché il cuore? Per la sua forma, che poi dopo, in realtà anatomicamente parlando, è diversa da quella immaginata, no? Assolutamente sì. E poi il cuore, se uno vuole banalizzare, è un muscolo, quindi uno come fa a corredare l'amore con un muscolo. Però in realtà, tutto quello che riguarda la sfera emotiva impatta anche sull'attività adrenergica, che è la prima manifestazione che conduce sul cuore, la tachicardia, quindi il senso del cardiopalmo, le modificazioni pressorie che rendono il rossore del viso. Quindi è l'apparato cardiovascolare il primo che in una fase di emotività, in una fase di passione, in una fase di arrabbiatura, entra in gioco nelle manifestazioni emotive. E per questo le persone associano tutto lo spettro dell'emotività, dell'amore al cuore. Chiaramente, sicuramente, è molto meglio innamorarsi che arrabbiarsi, vero? Sicuramente. Senza alcun dubbio. Il dottor Duronio è abruzzese, lavora a Pescara, all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ed è stato sei anni a Pesaro. Peraltro ha sviluppato una grande esperienza nel reparto di emodinamica. Cosa significa? Cos'è l'emodinamica se lo dobbiamo rapportare alla cardiologia? L'emodinamica è la parte invasiva della cardiologia. Viene anche denominata cardiologia interventistica. Cioè, è quella parte della cardiologia che si occupa mediante un trattamento non farmacologico, cioè un trattamento invasivo, della risoluzione di molti problemi cardiovascolari. In modo in particolare, sicuramente, l'emblema è l'infarto. Cioè, il paziente con infarto ha sindrome coronarica acuta, ha un'ostruzione di una coronaria, cioè di un'arteria che porta sangue al cuore. E in quel contesto, quindi, la strategia migliore di trattamento è quello di andare a riaprire questa coronaria e, contrariamente a quanto pensano molti che pensano che vada immediatamente fatta con un bypass, cioè con un intervento estremamente invasivo, in realtà non è così. L'immediata strategia di trattamento è quella con la cardiologia interventistica, cioè l'accesso alla coronaria attraverso dei cateteri, dei fili guida, dei palloncini che ci permettono di andare a dilatare le coronarie e quindi riportare il flusso al muscolo e quindi ridare vitalità a un muscolo che in quel momento ha una fragilità. Certo, ma in sofferenza perché chiaramente manca l'irrorazione c'è un'irrorazione minore. E quando è? C'è un modo, cioè noi ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa? Ce ne rendiamo conto perché c'è una sintomatologia clinica e la sintomatologia clinica può essere molto variegata. Diciamo che il sintomo caratteristico che le persone riferiscono è il dolore toracico dove poi l'irradiazione è quello che rende il facile, le persone dicono mi faceva male il braccio sinistro, quindi dolore al petto con irradiazione al braccio sinistro può essere un'espressione clinica però non dobbiamo sottovalutare che i libri dicevano qualsiasi dolore dalla cintola in su può essere ascrivibile a un infarto del miocardio tanto che molto spesso molti pazienti che hanno un forte dolore epigastrico cioè un dolore alla bocca dello stomaco che pensano di riferire a una gastrite o comunque a un problema gastrointestinale in realtà hanno una sindrome coronarica acuta cioè hanno un infarto abbiamo visto molti pazienti con un'irradiazione mandibolare del dolore cioè pazienti che in realtà più che dolore toracico dicono io sentivo una forte stretta al collo e quindi diciamo che di base il dolore toracico però esistono molte altre sfumature quello che è importante sottolineare per un paziente è che è un dolore che inizia improvvisamente che non si è mai provato prima che è molto forte magari associato a sudorazione o altra sintomatologia che non ha mai riportato precedentemente deve essere per il paziente una spia per chiamare il 118 perché il 118 con un banale elettrocardiogramma fatto anche a casa può fare precocemente la diagnosi di infarto e quindi portarti rapidamente in una sala di emodinamica per fare la riperfusione cioè per riaprire il vaso per avere un'aspettativa di vita molto più favorevole e nel momento in cui si dovesse verificare questo evento cardiaco e ci fosse l'intervento dell'emodinamica tutto torna come prima oppure no questo è condizionato purtroppo dal tempo cioè se la cosa viene fatta in maniera precoce cioè insorgenza del dolore chiamata tempestiva al 118 trasferimento rapido nella sala di emodinamica e riapertura veloce del vaso a volte abbiamo pazienti di cui tu non ti rendi conto né all'elettrocardiogramma né all'ecocardiografia che hanno avuto un infarto cioè sono pazienti che hanno quello che si chiama un infarto abortito cioè li hai rivascularizzati talmente rapidamente che non hai più nessun tipo di segno clinico di segno clinico di un infarto al contrario invece se il paziente non accede rapidamente perché magari preferisce sostenere il dolore oppure utilizza dei medicinali che per alleviare la sintomatologia antinfiammatori analgetici sperando che la sintomatologia passa la classica frase è il tempo e muscolo come il tempo e cervello più tempo passa più il muscolo va incontro a necrosi quindi a morte cellulare quindi il danno è maggiore con tutti gli esiti che può comportare in ultimo l'exitus quindi è importantissimo ai primi sintomi o comunque nel momento in cui c'è qualcosa di strano immediatamente drizzare le antenne e fare riferimento al 118 anche perché poi l'intervento è molto rapido e tempestivo assolutamente sì in una diciamo organizzazione come quello della città di Pesaro dove l'accesso all'emodinamica è diretto al 118 cosa che non si verifica in tutte le realtà perché in molte realtà il 118 porta in pronto soccorso invece diciamo a Pesaro è ben radicata da anni questa organizzazione dove nel momento in cui c'è un dubbio del 118 c'è un contatto diretto con l'emodinamica e c'è l'attivazione immediata della sala questo ha dimostrato che c'è una importantissima riduzione del tempo nel passaggio territorio 118 pronto soccorso eventuale reparto emodinamica bypassando quei passaggi si riduce molto di più quello che si chiama il door to balloon cioè dalla porta di casa fino all'apertura del pallone per riaprire la coronaria e questo cambia notevolmente la prognosi certo e invece in quella che è magari un po' la vita di tutti i giorni che tutti noi conduciamo quando è che c'è qualche segnale che ci dice forse è meglio farci visitare dal cardiologo non so se pressione alta cose del genere altre sensazioni negative qualcosa di strano cos'è che ci dovrebbe far accendere questo semaforo giallo allora una valutazione cardiologica può essere fatta fondamentalmente per due ordini di principi o una sintomatologia e i sintomi cardiologici sono l'affanno paziente che percepisce di avere un affanno che prima non aveva magari sotto sforzo il dolore toracico quello che viene chiamato angina le palpitazioni o lo svenimento questi sono i motivi più frequenti per cui un paziente si rega dal cardiologo accanto a questo che è una valutazione basata su una clinica c'è anche una valutazione basata su i cosiddetti fattori di rischio cioè un paziente che ha una pressione arteriosa non ben controllata o un paziente che ha un colesterolo non ben controllato o un paziente diabetico da molti anni quindi che ha un profilo di rischio cardiovascolare alta anche che a prescindere dalla sintomatologia dovrebbero diciamo fare una valutazione cardiologica per capire se c'è quella che è l'espressione di un danno d'organo cardiaco cioè la valutazione degli spessori della massa cardiaca della orta per delle valvole per capire se il fattore di rischio che hanno che può essere la pressione alta o il diabete abbia determinato delle alterazioni morfostrutturali a livello cardiaco e se parliamo di pressione cosa significa avere la pressione alta cos'è la pressione arteriosa la pressione diciamo si tratta non si tratta di una malattia le persone molto spesso identificano l'ipertensione arteriosa come una malattia in realtà non è una malattia l'ipertensione arteriosa rientra in quella che vengono definiti fattori di rischio e fondamentalmente si basa semplicemente sull'andare a misurare attraverso un sistema banale uno stigmo manometro o la pressione arteriosa si parla di pressione alta diciamo senza andare a fare una classificazione estremamente esagerata quando una pressione è superiore a 140-90 cioè il paziente ha una pressione alta quando è superiore a 140-90 la pressione è normale sotto i 120-80 poi c'è una fascia di grigio tra i 120 e i 140 dove le classificano come pressione normale alta ma non ci serve diciamo entrare nel dettaglio della della cosa e la pressione alta fondamentalmente quello che noi dobbiamo considerare è che cosa comporta avere la pressione alta diciamo in un momento della giornata non comporta nulla basta pensare che se un paziente fa le scale è probabile che la pressione gli arriva a 200 quindi non è che avere una pressione alta per 10 secondi un minuto due minuti comporta un danno cardiaco perché è l'adattamento del circolo il problema è avere la pressione alta per giorni mesi o anni perché avere la pressione alta significa per il cuore dover fare un surplus di lavoro per pompare sangue a quella pressione quindi molto spesso ai pazienti faccio questo riferimento è come se tu hai una macchina con la tua macchina al posto di utilizzare tutte le marce utilizzi solo la prima e la seconda quindi fai lavorare il motore a giri molto alti e tendi nel tempo a consumare molto di più quel motore ti farà molti meno chilometri rispetto a una macchina che viene utilizzata a giri bassi e consuma anche molto di più e consuma anche molto di più quindi diciamo l'ipertensione viene considerata non nell'ottica immediata ma deve essere considerata in un'ottica prolungata nel tempo deve essere considerata come quel fattore che a lungo tempo possa determinare delle modificazioni in questo caso cardiache che possono portare a vere patologie basta pensare alla fibrillazione atriale la causa più frequente è la pressione alta le malattie cardiovascolari ma non ci metto solo l'infarto mettiamoci anche l'ictus le patologie vascolari del rene cioè la prima causa di insufficienza renale l'ipertensione e il diabete quindi il trattamento della pressione per lungo a lungo termine ha il significato di prevenire le malattie cardiovascolari e mi diceva prima fuori onda che sono recentissime le nuove linee guida proprio sulla misurazione della pressione arteriosa che sarebbe bene fare in determinate condizioni assolutamente sì la società americana ha pubblicato a dicembre del 2023 le nuove linee guida sostenendo fondamentalmente una serie di cose ha come misurare la pressione cioè misurare la pressione il paziente deve essere in una condizione di tranquillità benessere assenza di rumore astensione da fumo alcol e cibo per almeno 30 minuti quindi non è che uno può mentre mangia si misura la pressione si prende un bicchierino di whisky per benessere dopo diciamo che non è il caso non è che può ridastarsi con il whisky per misurarsi la pressione e specifica anche diciamo di misurarla da seduto e da in piedi quindi effettuare due misurazioni da seduto con un intervallo di tempo di un minuto tra le due misurazioni schiena ben appoggiata sullo schienale braccio appoggiato sul tavolo e effettuare la misurazione con degli apparecchi certificati cioè purtroppo non possiamo avvalerci di un sistema di misurazione che sia comprato al supermercato cioè forniscono anche in dettaglio il sito su cui trovare gli apparecchi la società scientifica e la misurazione deve essere fatta la mattina e la sera per almeno un periodo di una settimana quello che si chiama l'automonitoraggio che ha un valore molto più diciamo attendibile rispetto alla misurazione effettuata presso l'ambulatorio del medico di famiglia o presso il farmacista o presso la struttura ospedaliera perché lì ci sono delle condizioni sia emotive delle tempistiche che a volte possono portare a dei valori di pressione alta e che in realtà non è la cosiddetta ipertensione da camice bianco la condizione più frequente per cui enfatizzano sul sul ruolo del paziente come fulcro per la sua automisurazione e quello che propongono di fare molto spesso è un diario pressorio che può essere molto più utile rispetto a una singola misurazione effettuata dal medico dal farmacista o in ospedale per sia diagnosticare l'ipertensione ma soprattutto per gestirla nel tempo senza che poi si entri in quel loop che delle volte succede che magari una persona si misura la pressione 20 volte al giorno non ha senso e loro prevedono anche questo loop cioè ti dicono che se una persona poi ha la tendenza a fare questo per cui il non trovare il valore giusto gli condiziona emotivamente la pressione quindi un circolo vizioso che ti porta ad avere la pressione alta ti specificano chiaramente lascia perdere l'automisurazione e dedicati al monitoraggio ulter cioè alla misurazione delle 24 ore della pressione arteriosa con il cosiddetto a bpm diciamo che si può trovare in ospedale oppure anche al di fuori che ti dà una misurazione ogni 20 minuti ti permette di misurare la pressione anche di notte quindi hai la possibilità di identificare magari persone che sono ipertese solo di notte i cosiddetti non dipper cioè quelli che fisiologicamente non abbassano la pressione e quindi diciamo ti dà un valore aggiunto per la diagnostica dell'ipertensione certo dottore ci avviamo alla conclusione qui siamo in un centro estremamente moderno adeguato a tutti i tempi che stiamo vivendo il Fisiorati Medical Center si distingue per questo anche soprattutto in questi ultimi due anni e mezzo di vita da quando in questa sede tra poco ci sarà anche un cambio a riguardo delle apparecchiature quindi avremo degli strumenti innovativi anche per quello che riguarda la TAC la risonanza magnetica tutti strumenti che possono sicuramente concorrere a una visita cardiologica più approfondita assolutamente sì a questo proposito l'utilizzo è ormai diciamo conclamato acclarato anche dalle linee guida che per l'identificazione molto più accurata nell'ambito delle patologie cardiovascolari diciamo si ha bisogno di quelli che si chiamano test di imaging quindi una valutazione effettuata con una coro TAC o una valutazione strutturale con una risonanza magnetica cardiaca ti danno o delle informazioni molto più complete rispetto a magari molti che si definiscono test di primo livello ecco ok quindi è una considerazione da tenere presente perché quando si affronta qualunque discorso che riguarda il cuore che come abbiamo detto all'inizio è l'organo più importante trainante del nostro organismo davvero bisogna avere questa attenzione dottore grazie davvero grazie a voi è stato davvero molto interessante parlare con lei vi invitiamo a rimanere su Rossini TV l'appuntamento e a lunedì prossimo buona serata a tutti grazie a tutti